In volo con voi, è un salto, è voglia di appare... È giunto a Padova in questi giorni il nuovo schiacciatore bianconero Lazar Cirovic. Per lui visite mediche e test fisici di rito in attesa di poter iniziare la preparazione con la nuova Chioene Padova che affronterà il campionato di Super Lega 2017-2018. Mi aspetto molto da questa nuova avventura e spero di disputare una buona stagione. Sarà interessante calarmi in una nuova realtà con nuovi compagni di squadra e darò il massimo per farmi trovare sempre pronto. Non c'è che dire, sono orgoglioso di essere qui. 25 anni compiuti lo scorso 26 febbraio, Lazar ha già affrontato il massimo campionato in Serbia, suo paese natale, Montenegro, Turchia e Grecia. Le precedenti esperienze nel campionato turco e greco sono state molto belle, ma in Italia il livello è sicuramente più alto. Quindi sarà una bellissima esperienza che mi consentirà anzitutto di crescere. Fu il nonno ad avvicinarlo al mondo del volley, inizialmente però da spettatore. A 12 anni comincia a praticare la pallavolo e il suo percorso lo ha portato fino a Padova. Per ora ho visto solo il centro della città, ma sono rimasto colpito dal suo fascino. Inoltre le persone sono molto cordiali e simpatiche. Che al momento posso dire che è stato un ottimo impatto. Le esperienze sono molto belle in questo momento. Ciao a tutti i tifosi, forza Padova!